Ciao, oggi vorrei presentarvi un nuovo gioco che mi è arrivato dalla Francia. È un gioco di cartone e che mi piace molto, proprio perché è un materiale semplice che però si presta a moltissimi usi. Il gioco è questo, è l'albero genealogico da creare insieme ai bambini. In questa confezione verde, questa busta che mi è arrivata a casa, dentro ho trovato l'albero di cartone, eccolo qui, da montare, è già pretagliato, quindi i bambini potranno staccarlo via con le loro mani facilmente. Ha delle fessurine, qui non so se le vedete, che verranno usate dal bambino per attaccare delle piccole linguette con il disegno del proprio parente. Queste schede qui, che sono dentro la confezione, come vedete hanno già dei disegni già pronti, bisogna solo colorarli e magari scegliere quelli più adatti, che magari somigliano di più alla mamma, al papà, al fratellino, alle zia, insomma. C'è lo spazio per scrivere anche il nome sotto ogni figura. Ed ecco qui, questo è tutto, insomma. Mi è piaciuto perché è un gioco semplice, che però invita a riflettere un po' i bambini. Di solito è difficile collegare nomi, volti ai parenti, insomma. I bambini vedono le persone che vengono a casa a trovarli, così, però non capiscono subito bene se è zio, se è un parente di papà, un cugino. E questo è un vero genealogico che in qualche maniera dovrebbe loro spiegar meglio tutto quanto. E questo è tutto, io spero che questo gioco vi possa piacere anche a voi. Qui sotto vi scrivo poi il nome dell'indirizzo web dove potete trovarlo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Ciao!